Come vivremo la settimana santa, carissimi fratelli e sorelle che ci ascoltate attraverso Teramo Web? Cominciamo da lunedì e lunedì avremo l'ultima lezione divina. Ecco, pur avendo girato in tutta la diocese sia in avvento come durante questo tempo di Quaresima, non ho voluto dimenticare Teramo. Per cui lunedì siete tutti invitati per coloro che desiderano fare esperienza della lezione divina nella parrocchia del Cuore Immacolato di Maria a Piazza Garibaldi alle ore 21 la sera per l'ultimo brano che proporrò come lezio divina. Mi soffermeremo soprattutto su una parola. Ricordati di me. Qualcuno riesce ad immaginare chi ha detto questa parola. Era uno dei due condannati a morte, crocifissi insieme a Gesù. Sarà un'esperienza molto forte perché questo ricordati di me ci deve dire una certezza di fede, una memoria di futuro. Cristo ci si ricorda, deve ricordarsi di noi perché solo così possiamo diventare partecipi pienamente della sua risurrezione. Perciò memoria, passato, ma di futuro, ciò che Cristo non solo ha sperimentato ma ha promesso alla sua Chiesa, ai suoi discepoli, ad ogni battezzato. Grazie mille.